Mariniamo la carne di coniglio prima di cuocere a nostro piacimento. Dagli insegnamenti della bisnonna io faccio così. Ho bisogno di timo, salvia, prezzemolo, carota, sedano, cipolla, vino e naturalmente un po' di olio extravergine di oliva. Le dosi indicate saranno per circa 750 grammi di carne di coniglio. Preparo mezza cipolla piccola. Taglio a tocchetti mezza carota piccola e la verso direttamente sulla carne. Aggiungo alcuni rametti di sedano che taglio finemente. Pochi rametti di prezzemolo. Tre foglie di salvia. Un rametto di timo. Ovvero un cucchiaino da caffè tritato. Mezza cipolla finemente tagliata. Tre cucchiai di olio extravergine di oliva. Mezzo cucchiaino da caffè di sale fino. Un bicchiaino da caffè di vino bianco. Mescolo accuratamente gli ingredienti con la carne per due minuti. ricopro con un canovaccio e lascio riposare tutta la notte, almeno otto ore. Per poi cucinare a nostro piacimento, al forno, in padella, al sugo o al vapore, come desideriamo. Sorprenderà quando tenera e gustosa sarà la carne. Davvero un piatto eccellente. Profumata, saporita. Mmm, che buona! Un ottimo secondo piatto a base di carne. Grazie amici per aver guardato il video. Ciao, alla prossima!